ciao oggi parliamo di un prodotto incredibile chiamato algol è un televisore portatile progettato da marco zanuso e richard sapper per l'azienda brion vega se non sapete chi sia brion vega è un'azienda molto importante del design italiano ancora presente oggi ed è famoso per la progettazione di radio e televisori alcuni dei più iconici della storia del design e quindi il televisore algol fa proprio parte di questa famiglia di progetti estremamente iconici è un televisore portatile ed è del 1964 è invecchiato molto molto bene così come un buon vino non è presente sul mercato oggi nel senso che l'azienda rimette dei prodotti rigenerati sul mercato adattandoli comunque a tecnologie odierne come dicevo del 1964 ed è il frutto di una stretta collaborazione tra l'azienda e questi due designer richard sapper e marco zanuso il televisore algol è estremamente versatile e si adatta alle esigenze del cliente per quale motivo ha uno schermo inclinato poi vi metto tutte le immagini in editing ha uno schermo inclinato e può essere visto anche appoggiando il televisore a terra oppure ad esempio se siete in cucina e siete in piedi lo appoggiate sul piano della cucina e lo schermo indica direttamente voi quindi non dovete spostarvi per vedere bene il televisore per fare questo i due designer hanno lavorato moltissimo sulla funzione che doveva avere il prodotto ora vado a citarvi marco zanuso questo televisore sembra che la forma ricordi un cagnolino mentre punta il muso verso l'alto guardando il padrone effettivamente se voi guardate il televisore di profilo sembra esattamente come l'ha citato marco zanuso pensate che questo è stato uno dei primissimi televisori portatili sicuramente il primo in italia e c'erano dei modelli all'estero come ad esempio in giappone ma in italia è stato il primissimo e considerate che il primo modello dell'algo era a batterie poi è stato trasformato con un filo molto lungo però a filo e pensate questo progetto è arrivato da due persone che in realtà non erano dei designer industriali non c'era neanche la facoltà di design industriale marco zanuso era un architetto mentre richard sapper non aveva studiato design aveva fatto diverse facoltà studiando diverse cose come ad esempio economia o anche ingegneria alla fine si è laureato in economia ma la cosa bella è proprio il fatto di arrivare da realtà diverse arrivare da realtà diverse ti dà modo di avere un approccio sul progetto molto diverso e questo fa tutta la differenza nel mondo spesso alcune persone mi chiedono ma è fondamentale aver studiato design del prodotto industriale per fare designer no è ovvio che dovete fare una cultura in questo settore ma l'esempio perfetto è quello di richard sapper un uomo che non ha studiato design ma ha vinto 11 compassi d'oro nella sua vita torniamo al nostro televisore algol in realtà è stata l'evoluzione di un televisore arrivato prima che era il televisore donne i14 sempre progettato da marco zanuso e richard sapper nel 1962 con brion vega e questo è stato un altro compasso d'oro ora concentriamoci sugli aspetti tecnici di questo televisore i designer collocarono i tasti di controllo e l'antenna alla giunzione della parte inclinata con il corpo vero e proprio del televisore creando così una semplice unità organica e permettendo di trovare facilmente i tasti anche al buio giusto per farvi capire quanto siano fondamentali particolari da analizzare in un oggetto la plastica esterna del televisore è stata concepita per essere pulita con facilità la sua maniglia di metallo quando non è in uso resta chiusa a filo mentre quando utilizzata per trasportare il televisore è robusta e sicura anche i componenti interni sono stati sistemati in modo razionale per assicurare una facile manutenzione e compattezza tutte idee concetti di design che preannunciano l'epoca della miniaturizzazione dei componenti ovviamente ad oggi vediamo televisori con schermi piatti forme estremamente sottili all'epoca non si poteva i televisori erano ancora con il tubo catodico quindi era una vera sfida riuscire a fare tutto in una versione molto piccola un altro particolare sono i piedini sottostanti al televisore se guardate nella parte frontale vedrete che è leggermente rialzato e non tocca a terra questo serve nel caso in cui prendiamo la televisione in maniera maldestra il piedino si appoggia evitando di toccare lo schermo con superficie che potrebbero andare a rovinarlo come dimensioni a una larghezza di 26 centimetri una profondità di 35 centimetri ed un'altezza di 26 centimetri quindi un prodotto estremamente compatto funzionale ancora oggi ha un'icona ricercatissima del mondo del design tutto qui se vi è piaciuto questo video lasciate un like scrivetevi al mio canale se volete continuare a seguire altri video se volete cercare altri prodotti realizzati da marco zanuso richard sapper li trovate all'interno della playlist o di richard sapper oppure di marco zanuso se volete fare quattro chiacchiere o il gruppo di telegram nel quale scambiamo idee concetti informazioni del mondo del design tutto qui alla prossima ciao ciao